Ma si è una volta di vita, ma fanno questa volta di vita, amore, arrivo! Oh mamma mia, saranno state queste vacche! Oh mamma! Toma, via! On va bene? Bene? Bene il suo con? Bene? Si? 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 No lo conoscete, va bene. Nu facciamo il video... Si! 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 come quando dico via se metti un altro in bocca e poi forse il calo ma calo da me dammi l'acqua la bacca sporca di sabbia Simone, basta! Falangra bene le gambe, Thomas. E un ultimo dettaglio, la rifacciamo l'ultima volta e basta. Quando, come vi ho detto prima, quando tutte le comparse, quando lei dice guardate i dispersi sono... Ma è su un valore. E' una base. Tutti. 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 Tutti.